Entro l'estate il federalismo demaniale, primo passo per il federalismo fiscale. Ne è convinto il governatore del Veneto, Luca Zaia, che dopo la sua seconda riunione di giunta ha incontrato la stampa e spiegato che secondo lui spiagge, caserme e fiumi dovrebbero tornare ai legittimi proprietari. Il federalismo demaniale significherà avere le spiagge, le caserme e gli immobili del demanio direttamente riconsegnati ai legittimi proprietari, quindi alle province, ai comuni e alla regione. Assolutamente senza spese, quindi saranno patrimoni da valorizzare che potranno rimpinguare le casse dei nostri enti locali. La conferenza Stato-Regioni a Roma ne discuterà giovedì mattina. Togliamo il primo mattoncino a livello nazionale per portarlo a livello locale, sia per le regioni, sia per quanto riguarda i comuni e gli enti locali. Intanto stamane la giunta ha affrontato temi legati alla macchina organizzativa di Palazzo Balbi, ai ricorsi legali di cui la regione è oggetto e soprattutto alla questione sanità. C'è infatti un disavanzo di 25 milioni di euro che deve essere coperto. Rispetto agli altri anni c'è stato un netto miglioramento. Normalmente eravamo intorno ai 100, quest'anno siamo riusciti a chiudere a meno 25. E se facciamo un raffronto rispetto al bilancio totale della sanità, che è circa 8 miliardi e mezzo, io direi che il risultato è buono. Se teniamo in considerazione anche quella che è la realtà veneta rispetto alla sanità, che è una realtà che è sempre stata un'eccellenza a livello nazionale. Nulla dicono rispetto al miliardo e mezzo di buco nelle casse di una regione come la Calabria, ma migliorare anche qui nel Veneto è possibile, cominciando magari dalla riduzione dei tempi delle liste d'attesa. Dovremmo ancora puntare alla riduzione dei tempi di attesa, penso alle radiografie, penso alla risonanza magnetica, all'età, a tutto quello che sono poi i problemi quotidiani del cittadino.